Ciao, bentornato oggi sul canale italiani con notizie come punto stando a quanto ha detto nel corso della sua ultima intervista rilasciata al settimanale chi, Mirko Brunetti d'ora in avanti vorrebbe farsi conoscere meglio non soltanto per il triangolo tra lui, Greta Rossetti e Perla Batiero al Grande Fratello 2023 Peccato al pubblico interessi quello e non altro. Ma uomini e donne poi? Durante la ventottesima puntata, del Grande Fratello 2023, l'aspirante tronista del dating show targato Maria De Filippi ha chiuso definitivamente sia con Greta Rossetti, rimasta molto delusa, e Perla Batiero con cui però ha fatto lo stesso emozionare Che in realtà stia spianando la strada per uomini e donne. La verità Mirko Brunetti, cosa sta succedendo dopo il Grande Fratello? Con Greta sono successe troppe cose Ho capito che viviamo vite troppo diverse. Poi non mi è piaciuto come mi ha attaccato sua madre per difenderla, ci sono rimasto male. Anche lei ci ha messo del suo, sui social e al Grande Fratello 2023 Da questa estate, mi ha messo troppe volte in difficoltà, ha pensato più a se stessa che a noi Ci ho chiuso perché mi ha lasciato, con Perla sei mesi fa, bisognerebbe ricordarlo Ho bisogno di stare solo. Voglio farmi conoscere per chi sono e non per il triangolo, ha rivelato a fiume La commozione nel parlare del primo Natale senza Perla Batiero in occasione del loro incontro al Grande Fratello 2023 era evidente in entrambi ed ha emozionato tutti Ma anche per Greta Rossetti restano solo buoni sentimenti, a parte qualche piccola delusione Sono state molto importanti. Certo io con Perla ho vissuto insieme per anni Lei e io abbiamo una complicità pazzesca e ci capiamo su tutto, ha aggiunto Eiperletti, da queste parole, si sono decisi a illudersi ancora di un ritorno di fiamma piuttosto improbabile Sì, lo farei, sono sincero, ha invece ammesso senza girarci troppo attorno Mirko Brunetti Gli era stato chiesto proprio di uomini e donne. Magari non subito, ha subito corretto il tiro Ma lo farei solo come tronista e non come corteggiatore, si è anche sentito di specificare mettendo le mani avanti e non si sa esattamente per quale motivo Insomma, se le indiscrezioni su tale faccenda continuano a emergere un motivo ci sarà È fatta, tronista, e chi lo vuole, dopo la figura al GF, non scenderà nessuno per lui, scrivono alcuni fan su Twitter burlandosi di lui, altri non stanno nella pelle Magari, speriamo, ancora.Grazie per aver guardato l'intero video Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video